La finanziaria che il governo crogetta da qualche giorno approvata prevede tagli per oltre un miliardo di euro, lacrime e sangue per tutti, non risparmiando neanche le province regionali, che verranno sì sciolte ma opereranno fino a che una nuova legge non sarà approvata guidati da dei commissari. Quindi, come ci preannuncia il consigliere provinciale della destra Roberto Gallo, saranno a rischio numerosi servizi, specie nel campo del sociale, non potranno più essere garantiti per tutti. Si rischia realmente di non poter più partecipare al CUPA, il consorzio universitario della provincia di Agrigento, che senza il milione, milione e cento, milione e due che dà il socio di maggioranza che è la provincia regionale, rischia di chiudere. L'istituto musicale Toscanini, che è uno dei pochi gioelli che abbiamo che sforna ragazzi diplomati con diplomi di tipo laurea breve, che lavorano, rischia secondo me pure di chiudere perché anche lì non potremo dare, non potrà dare la provincia regionale quel milione, milione e cento, benché ci sia stato un emendamento positivo della regione per salvare il Toscanini, non sarà sufficiente e si rischia la chiusura e quindi chiudere quest'altro gioello. È completo con una cosa gravissima il servizio sociale di assistenza ai portatori di handicap sensoriari e non solo, che ogni anno ha comportato un investimento di un milione e mezzo, due milioni, tre milioni di euro, rischia di essere chiuso e tagliato completamente. Ma la tabella H, se la sono praticamente approvati, tutta la politica, fatto salvo il Movimento 5 Stelle e il nostro Movimento politico, la destra, che ha votato contro, perché in un momento d'emergenza, affermo restando che la cultura è importante, prima vengono le priorità assolute e poi il resto. Questa è la situazione, quindi devo gridare vergogna. Quale sarà il futuro a breve delle province? Il Presidente andrà via, arriverà un commissario, poi cosa succederà? Allora, il 16 di giugno, perché abbiamo votato il mandato popolare, scade il 16 giugno di quest'anno, quindi tra un mese e dieci giorni scade il mandato. Il Presidente Crocetta ha preannunciato nell'emore della legge che deve essere fatta entro il 31 dicembre e quindi del blocco delle elezioni provinciali che non ci saranno, l'invio di un commissario prefettizio in ogni provincia. Quindi quando arriverà il commissario sostituirà materialmente sia il Presidente della provincia che il Consiglio provinciale. Per cui in quel momento andremo via, quindi presumibilmente entro fine giugno. Poi entro dicembre, svolgendo gli affari ordinari ai vari commissari, la Giunta regionale dovrà varare una legge dettagliata, difficile, complessa, complicata. Non so se ci riusciranno, ma comunque io da cittadino mi auguro che loro abbiano ragione, che si possa risparmiare cambiando, non so che cambiamento sarà, una legge che dal 1 gennaio vedrà la nascita, che poi sarà solo un cambio di parole, anziché provincia regionale ci sarà scritto Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento Capofila o Sciacca Capofila. Questi sono i passaggi che ci saranno. Vedremo. Grazie a tutti.